venite subito qua eccomi qua eccomi qua eccoci eccomi qua cosa c'è io sono molto nervoso è normale essere nervoso e dove hai la sciarpa mi ero dimenticato la mia sciarpa oh un attimo ragazzi eccomi qua qui c'è vuoi le le car方ose che sono molto nervosi è normale essere nervosi perché Perché voi non siete dei detective Ma come noi due siamo crede dei detective Anche loro E infatti Ma voi non avete fatto solo voi Fate capire quelli 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 stupidi unboshking Aspetta Cosa che volevo dire Che sono molto arrabbiato Un attimo Che sono molto arrabbiato Sì Fate quelli quelli che vuoi giocare Come i vostri stupidi Non riuscimi unboshking Andate che i nostri unboshking Sono stupidi Ma no Noi non è vero Noi siamo veri dei grandi detective Ah sì Fatemi un mistero Comunque Ho sentito che hanno robato Una preziosa Una cosa Cosa Hanno arrabbito lì papatomo Ma se io Mi sento Di nuovo Se io mi sento di nuovo Che non siete detto Il giorno che mi schiaccio Ok no no Vado a vedere Va bene Ok andiamo Andiamo Eccoci qua Siamo appena arrivati Eccoci qua Sì siamo proprio appena arrivati Ecco quanto A dove sarà L'ipopatomo scomparso Non lo so Perché non chiediamo A quello lì Ok Vorresti chiedere A chi vorresti Vorresti chiedere A quel marziano Non è un marziano Non è un marziano Noieti Ok Buongiorno Suieti Ciò che succede Hai visto per caso Di quanto aveva rapito Sì l'ho visto E davvero È andato da quella parte Che cosa era Io non lo so Io mi sono appena Mi sono appena caduto Mentre Vedevo che corre Ma non l'ho visto Che era troppo poggiare Che avevo risparare Poi Non sono riuscito A prenderli Perciò Perciò Io credo Perciò Preservi da questa parte E segui Della direzione Oh grazie mille Non c'è Grazie mille Sei molto gentile Oh Scusate ragazzi Grazie mille Signorieti Non c'è De che Ragazzi Sì Comunque Grazie Signorieti Grazie Non c'è di che Ragazzi Ci vediamo Tra un po' Qualche mese Vado Vediamo Una bella cioccolata A caldo Ciao Signora fuoca Ciao Ragazzi Ciao Ciao Cosa volete Da me Volevo dire Se tu Hai visto Una cosa Che cosa Hai visto Per caso Una traccia Di un L'hippopotamo Scubar Sia da terra Quella parte Grazie mille Ciao Ciao Eccoci qua Ma qui non c'è Le sue tracce Di un po' L'hippopotamo Già Guardate Ci sono serie Di graffi Deve essere qualcosa Di molto grosso E se magari fosse Aspetta cos'è Se magari fosse Una cosa Che cosa Fai pensare Un attimo ragazzi Voglio pensare Che chi è Che deve venire Col suo graffio Adesso ho capito E che cosa Queste Queste Prova Appartengono Di un Che cosa Di un Di un Di un Di un Un attimo Di un Di un orso Di un orso No Non di un orso Di un orso bruno Un orso bruno Secondo te Queste Le graffi Di un orso bruno Non sembrano Graffi Le graffi Sono così Mentre queste Non sembrano Graffi Così Ma è vero E voi guardate Quelle impronte Interessante Andiamo ragazzi Risolviamo Il mistero Ok Andiamo Molto Molto Bene Molto Andiamo ragazzi Ok Continuiamo A usare Il terreno A usare un momento mi sa che adesso se siamo aspersi oh no ci siamo persi non troveremo mai l'ipopotamo oh fai pensare dove siamo stati oh no oh no oh no Alla prossima Adesso Adesso lo capite Dove vengono questi odori Che cosa? Sento odori di un felino Di un felino Sì, di un felino molto cattivo e affamato Cioè dai, chiediamo a qualcun altro Magari lo saprà dove saranno Oh, ciao signor Minion Ciao ragazzi, cosa ci fate voi qui? Per caso hai visto Passare un felino e un orso? Eh, un felino e un orso Non capisco di cosa tu stai parlando Stavo parlando Ah sì, è vero Sì, lo so dove sono andato Da quella parte, da quei cattivoni Ah, grazie mille Adesso andiamo da loro Eccoci qua Chissà dove sarà Eccolo lì Eccolo lì l'orso Andiamo Oh no Guarda Ci sono degli animali Lì Lascondi lì papà Do me lascondi No Stai zitto tu Ciao signor orso Eh Sì Che smilodonte Per caso Sei tu che fate Eh sì, sono l'orso bianco Anche se Ma di solito ti chiamavano a te Orso bianco Orso bianco Vabbè sì Sì, perché noi diciamo Sono orse Ma tanto dai Io sono uguale a un orso bianco Comunque stiamo cercando Un coso Che cosa Stiamo cercando Un ipapata Ma per caso Avevo visto un orso E un felino Eh sì Sono lì all'orso Ma Ma però Certo che c'è qualcosa di strano Come vai qui i graffi Vi riconosco qualcuno Di quello che ho visto Allora Allora Dovete abbassare da questa parte Ehm O fa quanto ci mette Troppo O fa Non ci vorrà troppo Cosa è quello Cosa L'ipapata Cosa Oh no no Ah ah Abbiamo scoperto I veri colpevoli Oh no Oh no Ci hanno finalmente Oh no Finalmente Oh no Ci hanno visti Ecco lo sapevo Guardate ragazzi Questi graffi Questi graffi A parte Non di un orso Ma di un orso bianco E quelle A parte Non di un film Ma di uno smiladonte Ma quindi Se state voi A rubare Per Ehm Dicci la verità Ma possiamo Spercare Vi dichiaro in arresto No 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 Lasciatemi Possiamo spercare Sta zitto E viene subito Qui in galera No 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 Bene Riveriamo l'ipapata Sei salvo Grazie Ehi Quei colpevoli Oh Oh Qui ne sei stato Ora Per l'ipapata Vedendo una bella Scoliciata Aia Aia Sta zitto Aia 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 Un attimo Eh Bene che non lo guardate Aia 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 Prendi questo E andate subito In galera Con me No E Non Non uscirete mai più Comunque ragazzi Io mi sbagliavo Su di voi Siete a vedere Detective Eh Te l'abbiamo detto Eh E vabbè Con se volete Mi liberate Me ne vado a casa Ciao Ciao Allora Mi sbagliavo Su di voi Mi metto a essere Detective Ok Bene Mi perdonerò Ok Che cosa Mi ha dato un adesivo Oh sì sì Torniamo al lavoro Ok Ciao 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 Io invece me ne vado a dormire Ok Ragazzi Il video Venisce qui E Sì Spero di seguire Bisogna la notte E la presa Ciao Ciao